Ciao da Francesco Nano. In questa videoguida Michele Busdraghi ci parla delle cuffie AKG K240 MK2. La videoguida di Michele che stai per vedere è molto interessante perché ci dà una chiara idea di quali sono le caratteristiche che possiamo valutare in una cuffia professionale. Le cuffie in particolare sono delle cuffie di fascia media, potremmo dire, hanno una particolare peculiarità che poi ci spiegherà meglio Michele che sono molto colorate, quindi non hanno proprio una risposta in frequenza particolarmente lineare, tuttavia questo può essere d'aiuto e scoprirai come nella videoguida avanzata, diciamo nella parte avanzata. Ti lascio ora a Michele Busdraghi con questa nuova videoguida. Ciao da Francesco Nano. Ciao a tutti gli amici di scuolasuono.it ed appassionati di recording. Sono Michele Busdraghi dell'Automaticos Studios di Firenze. Puoi visitare la mia pagina a profilo Scuola Suono per ultili ore i dettagli. Questa videoguida introduttiva è dedicata alle cuffie K240 MK2 della AKG. La casa di produzione austriaca non ha bisogno di presentazioni, dato che tra i più grandi produttori di cuffie è auto professionale da più di 50 anni. I prodotti AKG e in particolare le cuffie sono molto usate sia negli studio professionali che in home studio. Vediamone le caratteristiche principali. Sono semi aperte e circomaurali. hanno un'ottima qualità di riproduzione e sono modulari, ovvero le principali parti del prodotto possono essere acquistate singolarmente. Infine, hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ma vediamone ora una alla volta. Semi aperte e circomaurali. In una cuffia semi aperta il suono fuoriesce in parte dalle cuffie e l'aria che passa tra l'orecchio e la cuffia permette di avere un ascolto più naturale e più confortevole. Questa tipologia di cuffia è ottima in fase di mixaggio, perché può essere usata per molto più tempo senza affaticare l'apparato uditivo. Mentre non sono particolarmente adatto per la registrazione. Ad esempio una voce, perché il suono che fuoriesce dalla cuffia rientra direttamente nel microfono del cantante. Circomaurale è il sistema di pressione che la cuffia esercita sull'orecchio, dove il padiglione lo ingloba completamente e fa pressione solamente sull'esterno. L'opposto delle cuffie circomaurali sono quelle sopraurali, che fanno direttamente pressione sull'orecchio. I due sistemi combinati, semi aperto e circomaurale, danno un ottimo comfort nell'utilizzo prolungato. Passiamo ora alla qualità audio. La risposta in frequenza va da 15 a 25.000 Hz, che comprende l'intero spettro di frequenza audibile e anche oltre. Garantiscono un buon livello di volume, si arriva fino a 91 dB e hanno un'ottima risposta sui bassi, senza alcuna distorsione sonora. Abbiamo un suono cristallino sugli altri sui medi e una buona linearità. La modularità è un'altra importante caratteristica. Infatti si possono acquistare separatamente tre componenti delle cuffie. Il cavo, il cavo arrotolato e il padiglione. Poter acquistare le singole parti serve per non dover ricomprare l'intero prodotto se una di queste si rompe. Una delle principali caratteristiche che rende le HKGK240 molto usate è sicuramente quella del prezzo. E nonostante il prezzo contenuto, queste cuffie riescono a garantire una buona qualità di riproduzione e, come abbiamo già detto, di comfort nell'utilizzo prolungato. Nel prossimo video di approfondimento dedicato alle HKGK240, vedremo le specifiche tecniche nel dettaglio, faremo un'analisi della risposta in frequenza e vedremo i suoi punti di forza. Per ora è tutto. Ti ricordo che per accedere al video di approfondimento sulle HKGK240MK2 devi effettuare la registrazione gratuita. Ciao! Beh, Michele ci ha dato dei buoni spunti. Puoi proseguire nella visione del secondo video, della parte approfondita di questa videoguida, semplicemente effettuando la registrazione gratuita in scuolasuono.it esattamente qua sotto.